Continua il processo scaturito dall'inchiesta che avrebbe messo in luce il fenomeno dell'assenteismo al comune di Palma di Montechiaro tra il 2014 e il 2015. Gli imputati, secondo l'accusa, usavano allontanarsi dal posto di lavoro dopo che veniva attestata la loro presenza in servizio dal passaggio del beige. Assenze che in alcuni casi duravano anche solo pochi minuti, ma che, sommandole tra loro, ammonterebbero a diverse ore sottratte al lavoro. In sostanza, secondo la tesi accusatoria, il beige attestava la presenza al lavoro, ma in realtà gli imputati si sarebbero trovati da tutt'altra parte. C'è chi sarebbe andato ad un trigesimo, chi si sarebbe allontanato per partecipare ad un convegno sulla legalità, chi per fare shopping in gioelleria, chi addirittura si sarebbe recato al lavoro con tutta calma perché una quarantina di minuti prima un collega avrebbe passato il beige per lui. Ieri mattina, davanti al collegio dei giudici preseduto da Vilma Angela Mazzara, è stato ascoltato il brigadiere capo della stazione dei carabinieri di Palma, Graziano Marino. Il militare dell'arma ha analizzato le posizioni e le uscite di alcuni singoli imputati. Avevamo avuto notizia di allontanamenti dal posto di lavoro, avrebbe detto il brigadiere. Il regolamento prevedeva che anche in caso di allontanamento di pochi minuti bisognava comunicarlo all'ufficio. Durante la prossima udienza, fissata per l'11 giugno, il carabiniere sarà interrogato dai difensori, 20 gli imputati in questo processo.